Buonasera a tutti, siamo con Gianluca Vergari, uno dei protagonisti del match tra Lupa Amatori e Ognuno Nistanti. Allora io ti chiedo un commento alla fine di questa partita. Una buona partita, sono contento della squadra, siamo stati bene sul campo. Abbiamo subito sul 2-1 il gol, ma l'abbiamo tenuta di testa, quindi vuol dire un po' di maturità della squadra. Quattro partite consecutive vinte, comprese quella di Coppa. Bene così, bene la squadra. Un'importante striscia di vittorie, anche nel secondo tempo avete fatto una buona partita, avete pressato. Anche nella partita precedente, voi fate sempre una buona pressione e mettete anche l'avversione in difficoltà. Dimmi tu come hai visto questa partita e dimmi un po' la tua lettura. Ce lo dice sempre, anche gli spogliatoi dovevamo rientrare forti dopo il 2-1 perché sapevamo che la partita si poteva riaprire. Quindi siamo stati bene di testa ed è la cosa più importante. Perfetto, grazie a Bocalu per il campionato.